Non possiamo fermare il tempo. Il mestiere dell'orologio è stato creato affinché lo si possa addomesticare. Sono Andrea Sangalli, insieme ai miei genitori mio fratello sono titolare della nostra orologeria che si chiama Sangalli dal 1900. Quest'anno compiamo i 117 anni. È un negozio principalmente di tradizione dove basta entrare un attimo e si capisce che si respira un'atmosfera un po' diversa. Abbiamo scelto di restaurare quello che avevamo e non di cambiare. La nostra idea era di mantenere l'identità, anche sapersi adeguare ai tempi. La pendoleria e gli orologi con cui sono sempre stati una grande costante, come la riparazione, seguire il cliente nel conservare l'orologio in perfetto ordine stato. Orologi acquistati negli anni venti da noi e continuiamo a ripararli.